Che cos'è un universo? Per rispondere a questa domanda apparentemente banale dobbiamo spremere gli insegnamenti della teoria della relatività speciale del 1905 e della teoria della relatività generale del 1915-16 e prima di cominciare facciamo il nostro solito passetto indietro. La relatività speciale di Einstein ci insegna che poi adesso ad essere puntigliosi la matematica è di Lorenz, ci sono dei contributi di Poincaré, la scienza è un'operazione collettiva, è un'impresa collettiva, nessuno fa mai niente da solo salvo Grötendich e quindi chiamare la relatività speciale di Einstein forse è un pochino scorretto da un punto di vista di storia e filosofia della scienza, ma facciamolo per semplicità. Un giorno faremo un video su come le grandi conquiste della scienza siano in realtà non ascrivibili all'ingegno di una sola persona nella quasi totalità dei casi e di come anche uno come Newton sosteneva di essere un nano sulle spalle dei giganti venuti prima di lui. Ma torniamo alla relatività speciale, che è una cosetta abbastanza complicata da un punto di vista concettuale, ma che ci insegna una cosa fondamentale. Esiste una velocità limite della trasmissione dei segnali, ovvero nessun segnale nel nostro universo, qualunque esso sia, può andare più veloce di una certa velocità limite, che chiamiamo C. Banalmente è quella a cui ci riferiamo, è quella cosa a cui ci riferiamo con il nome di velocità della luce nel vuoto. Questo è un pochetto misleading, come diremmo qui. Purtroppo lavorando all'estero a volte le parole italiane non emergono, solo quelle in inglese, quindi mi perdonerete. Quella cosa che chiamiamo velocità della luce nel vuoto per questioni storiche, noi l'abbiamo misurata, per la prima volta è saltata agli occhi dei ricercatori come velocità della luce nel vuoto. In realtà è un oggetto molto più generale, che riguarda qualunque segnale trasmesso nel nostro universo, essendo che i fotoni sono privi di massa, la luce deve muoversi a quella velocità, ma non è la luce a definire quella velocità. Quella velocità è una questione geometrica, è una proprietà geometrica del nostro universo, che impone appunto che nessun, nessun esperimento locale, locale, questo è molto importante, questo se vogliamo è il grande insegnamento della relatività generale, nessun esperimento locale può misurare segnali, che si muove, può misurare velocità di segnali superiori a C. Nessun osservatore che compie un esperimento, qualunque esso sia, adesso io non capisco niente degli esperimenti, può trovare una velocità di trasmissione di un segnale superiore a C. E fin qui siamo d'accordo. È importante che questa roba sia definita localmente, perché poi vedremo che invece globalmente possono esistere dei fenomeni che sembrano generare velocità superiori a C, ma è quasi un inganno, è un gioco di parole. Purtroppo è dovuto al fatto che usiamo la parola velocità in molti sensi diversi, ma fino ad ora siamo certi del fatto che nessun segnale possa localmente avere una velocità superiore a quella della luce nel vuoto, appunto. C, tre per dieci alla otto metri al secondo. È tanto per gente abituata a vivere sulla Terra, gente abituata a essere alta tra un metro e mezzo e due metri, è molto poco per le scale del cosmo. Quindi non pensiate che la luce sia tanto tanto veloce, ci mette otto minuti a fare sole-Terra, e niente può metterci meno di otto minuti a fare sole-Terra, proprio per gli insegnamenti della relatività speciale. La relatività generale ci dice, uno, che questa roba è prettamente locale, che non ha senso chiedersi quale sia la velocità relativa tra due oggetti molto distanti, no? Perché queste cose non sono mai definite globalmente. E poi, e poi ci insegna che la gravità deve essere descritta come un effetto geometrico, un altro effetto geometrico, abbiamo parlato tanto di geometria in questo video, sulla forma dello spazio-tempo, o meglio, sulla curvatura dello spazio-tempo, perché tante forme possono essere equivalenti, qui c'è una ridondanza nella scrittura della teoria, diciamo che la fisica, la fisica sta nella curvatura dello spazio-tempo. Letteralmente, quanto questo oggetto geometrico a quattro dimensioni, una temporale, tre spaziali, si curva in presenza di distribuzioni di energia qualunque. Ecco, abbiamo parlato di geometria, abbiamo parlato di velocità limite nella trasmissione di un segnale, abbiamo parlato di spazio-tempo, quindi l'immagine che ci restituisce la relatività generale è quella di un oggetto, dicevo, geometrico a quattro dimensioni, uno spazio-tempo in cui vale la regola, appunto, della velocità. Limite. È questo un universo? La risposta più naturale sarebbe, sì, una qualunque soluzione dell'equazione di Einstein è considerabile un universo, ma secondo me questo è improprio, non è corretto, può sviare la nostra attenzione, perché proprio perché nessun segnale può muoversi più velocemente di C, nemmeno i rapporti causa-effetto nella nostra realtà possono muoversi più velocemente di C. Persino Newton se n'era accorto, nella gravità di Newton i segnali si trasmettono istantaneamente, ma persino Newton scrisse nei suoi appunti che solo un pazzo può pensare che ci sia una trasmissione istantanea di segnale, aveva già intuito l'esistenza di un mediatore, quello che oggi chiameremmo gravitone. Ecco, l'esistenza di C, il fatto che C non sia infinito ma sia un valore finito, impone anche un limite alle connessioni causali, ovvero, noti due punti, due eventi nello spazio-tempo, quindi oggi, qui, in questo preciso istante, in questa precisa posizione, su questa scrivania, e la galassia di Andromeda tra n anni misurati da un certo orologio, perché capite queste cose sono sempre locali, eccetera, 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 dati due eventi, dicevo, non è sempre detto che sia possibile la trasmissione di un segnale, ovvero non è sempre detto che possa esistere un rapporto causa-effetto tra quei due eventi. la dico in modo un pochino più semplice. Se due punti nello spazio-tempo ammettono la trasmissione di un segnale che si muove a C, che parte da quello più indietro nel tempo e arriva in quello più avanti nel tempo, allora può esistere un rapporto causa-effetto. Se due cose sono super lontane nello spazio e molto vicine nel tempo, un segnale che si muove a C non farà mai in tempo ad arrivare dal primo al secondo, capite? Perché se sono lontani un secondo e sette milioni di miliardi di chilometri, ok, la luce non ce la fa ad arrivare. Un qualunque segnale che si muove a C non ce la fa ad arrivare dal primo evento al secondo evento. Lampadina che si accende qui, lampadina che si accende là. E quindi se non c'è modo di spedire un segnale che si muove al più a C tra l'uno e l'altro, non può esistere un rapporto causa-effetto tra l'uno e l'altro. Quindi sono causalmente disconnessi proprio perché non possiamo spedire un segnale. Ecco, diciamo che due eventi sono causalmente connessi, connessi, se invece abbiamo la possibilità di spedire un segnale dall'uno all'altro, se mettiamo una lampadina qui e una lampadina qua e facciamo accendere una lampadina adesso e l'altra tra un'ora, c'è stato eccome tempo di trasmettere un segnale. Perché la luce in un'ora fa tranquillamente questa distanza. Fa molto di più ovviamente in un'ora. Se ci mette otto minuti a fare terra-sole può fare tipo sette volte e mezza la strada terra-sole in un'ora. Quindi fa tranquillamente la strada tra i miei due pugni. Ecco, diciamo quindi che l'accensione di una lampadina ora e l'accensione di una lampadina qui tra un'ora, scusate la ridondanza e il gioco di parole, sono due eventi causalmente connessi. Questo non significa che tra questi due esiste necessariamente o esista necessariamente un rapporto causa-effetto, ma che potenzialmente un rapporto causa-effetto può esserci. Ora, immaginiamo questa soluzione dell'equazione di Einstein. In questo spazio-tempo esistono pezzi di spazio-tempo e altri pezzi di spazio-tempo possono esistere. Diversi pezzi di spazio-tempo completamente causalmente disconnessi. Quindi noi possiamo avere un unico spazio-tempo, ma con due regioni tali che tra queste due regioni non possano in alcun modo esistere rapporti di causa-effetto. Questo vale anche per le osservazioni. Queste regioni sono così lontane che mai un segnale sparato dall'una raggiungerà l'altra. Adesso vedremo un esempio specifico, quindi capiremo di cosa sto parlando, ma dipende ovviamente dalla forma dello spazio-tempo, l'ammissibilità dell'esistenza di una cosa del genere. Però può succedere, può succedere che diversi pezzi dello spazio-tempo non possano comunicare l'uno con l'altro, che un segnale sparato dal primo non possa mai raggiungere il secondo, che un segnale sparato dal secondo non possa mai raggiungere il primo e che quindi nessun osservatore nel primo possa fare un esperimento che dà informazioni anche solo sull'esistenza del secondo e che nessun osservatore nel secondo possa fare esperimenti che diano informazioni anche solo sull'esistenza del primo. Questi due regioni dello spazio-tempo sono causalmente disconnesse. Anche volendo non possono esistere rapporti causa-effetto tra gli eventi di una ragione e gli eventi dell'altra ragione. Non c'è alcun motivo per ritenere, proprio da un punto di vista linguistico, che queste due robe facciano parte dello stesso universo. A me pare che l'unica nozione ragionevole di universo, quella che meglio si adatta alla nostra idea intuitiva di universo, sia quella di una regione, magari complicata dello spazio-tempo, causalmente connessa a se stessa, una patch causale. Ok? Se due regioni sono completamente causalmente disconnesse, regioni dello spazio-tempo, non regioni di spazio, regioni dello spazio-tempo, pezzi di spazio e tempo, oggetti a quattro dimensioni, allora quelle robe sono due universi distinti. Non c'è ragione di parlare di un unico universo se questi due pezzi non possono parlare. E capite bene, stiamo definendo le parole. Voi potete tranquillamente usare la parola universo per riferirvi a tutte e due, ma a mio parere è molto più ragionevole usare la parola universo per riferirsi solo a una o all'altra. Capite? Definire le parole non ha contenuto scientifico, non ha a che fare con la natura, ma noi dobbiamo cercare di definire, definire le parole nel modo più intelligente possibile, nel modo che ci aiuta di più a capire come funziona il cosmo. E visto che abbiamo già una parola che si chiama spazio-tempo, è una parola nota come spazio-tempo che ci permette di riferirci al tutto, a tutta la varietà, a tutta la soluzione delle equazioni di Einstein, della relatività generale, non ha senso usare la parola universo in modo ridondante, no? Per riferirci alla stessa identica cosa. Ma visto che c'è questo fenomeno di disconnessione causale di pezzi di universo, ancora una volta, stiamo per arrivare ad un esempio, stiamo per arrivare ad un esempio, ha molto più senso usare la parola universo per riferirsi a questi pezzetti. Quindi abbiamo una parola per il tutto e una parola per i pezzi. E badate bene, quell'idea di universi paralleli che abbiamo nella fantascienza, ad esempio, si adatta perfettamente a questa mia definizione della parola universo, pezzi di spazio-tempo che non possono comunicare tra loro, dove potenzialmente persino la fisica funziona in modo molto, molto, molto differente. Pensate a un universo in espansione, un universo in espansione come il nostro. Il nostro universo ha avuto diverse fasi di espansione accelerata, ha rallentato, adesso accelera di nuovo, c'è tutto il problema dell'energia oscura di cui parleremo in un altro video. In un universo in espansione, noti due punti, la loro velocità apparente di deriva l'uno rispetto all'altro cresce con la distanza. Perché? Perché immaginiamo un palloncino. Se noi gonfiamo un palloncino e prendiamo due punti sul palloncino, man mano che lo gonfiamo, ogni centimetro tra i due punti si dilatta. Quindi un centimetro passa a due... Mettiamo caso che soffiando un secondo dentro il palloncino, un secondo, ogni centimetro si dilatti a due centimetri. Capite? Ogni centimetro si dilatta a due centimetri soffiando un secondo dentro il palloncino. Questo significa che due punti che all'inizio erano a un centimetro di distanza adesso sono a due centimetri di distanza. Quindi si sono allontanati di un centimetro in un secondo. Due punti che erano a dieci centimetri di distanza si sono allontanati di dieci centimetri perché tutti i loro centimetri si sono raddoppiati. Quindi se partiamo da uno, arriviamo a due. Se partiamo da dieci, arriviamo a venti. Capite? Quindi due punti che all'inizio erano a un centimetro di distanza hanno una sorta di velocità relativa di un centimetro al secondo. Due punti che erano a dieci centimetri di distanza hanno una sorta di velocità relativa di dieci centimetri al secondo. Questa non è una vera velocità perché non è una nozione locale. Le nozioni locali riguardano un punto solo. Ok? Un punto solo. Questa definizione che stiamo dando riguarda due punti. Quindi non c'è nessun esperimento che un osservatore possa fare per misurarla. Servono due osservatori che comunichino tra loro e visto che non possono mai comunicare a una velocità superiore a ci tutto torna. Ma un universo in espansione funziona più o meno come un palloncino. E questo cosa significa? Che se prendiamo due pianeti molto vicini la loro apparente velocità di deriva l'uno rispetto all'altro sarà piccola. Se noi prendiamo due pianeti molto lontani sarà un po' più grande. Se ne prendiamo due estremamente lontani estremamente lontani può darsi che la loro velocità di apparente velocità di deriva relativa dovuta all'espansione dell'universo superi la velocità della luce nel vuoto. Superi C. E attenzione! Questo non viola in alcun modo in alcun modo quello che abbiamo detto all'inizio. Questo non viola la relatività speciale per due ragioni. Uno, perché questa non è una vera velocità. è un effetto dovuto all'espansione dell'universo in quanto tale dello spazio-tempo in quanto tale non la velocità di una roba che si muove sullo spazio-tempo. E due, perché non stiamo trasmettendo alcun segnale. Non c'è modo di sfruttare questa cosa per trasferire dell'informazione. quindi torna tutto alla perfezione e se non siete convinti ne possiamo parlare nei commenti. Poi questi sono tutti argomenti che io e Daniele Euriti abbiamo approfondito nella serie Road to Quantum Gravity che vi lascio in descrizione se siete davvero curiosi di entrarci. Ecco, se noi prendiamo due regioni dello spazio-tempo, in uno spazio-tempo in espansione sufficientemente lontane, la loro deriva, velocità di deriva relativa, sarà superiore, apparente velocità di deriva relativa, sarà superiore alla velocità della luce nel vuoto. Ancora una volta, nessuna contraddizione. Anche se usiamo la parola velocità per due cose molto diverse. Una velocità sullo spazio-tempo e una velocità apparente generata dall'espansione dello spazio-tempo stesso. Il punto è che tra questi due pianeti non può esserci più connessione causale. Magari inizio, ma poi non c'è più perché sono troppo lontani. Se il primo spara un raggio di luce, l'espansione dello spazio, e quindi lo fa muovere nel vuoto alla velocità limite, l'espansione dello spazio-tempo è sufficiente da far sì che il segnale di luce non raggiunga mai il secondo pianeta, proprio per questa velocità relativa, apparente di deriva dell'uno rispetto all'altro. Quindi in un universo in espansione, pianeti sufficientemente lontani non sono connessi causalmente. Se io spara un segnale, l'espansione dell'universo è tale da far sì che il mio segnale non raggiunga mai l'altro pianeta. Quindi questi due pezzi di universo sono genuinamente, questi due universi a questo punto, questi due pezzi di spazio-tempo, sono genuinamente disconnessi dal punto di vista dei rapporti causa-effetto. Questo è l'esempio canonico di una disconnessione causale in una semplice soluzione dell'equazione di Einstein e ricapitolando abbiamo detto che esiste una velocità limite alla trasmissione dei segnali. Questa induce una certa struttura dei rapporti causa-effetto. La velocità è una roba locale sullo spazio-tempo, non dello spazio-tempo, ma che esistono in relatività generale delle soluzioni tali che pezzi di spazio-tempo non possano scambiarsi segnali, non possano legarsi con rapporti causa-effetto. Quindi è del tutto ragionevole chiamare queste cose universi distinti. Se questa roba vi ha fatto esplodere le cervella, come spero sia accaduto, in modo, insomma, non mortale, ma spero sia accaduto, dovete assolutamente recuperare l'episodio di settimana scorsa sul principio di indeterminazione di Heisenberg, perché qua abbiamo visto il macro, lì guardiamo il micro ed è ancora più strano. Ricordate che la cosa importante quando vi gettate in un buco nero è portare la testa. A presto, crononauti!